Un polifemo di tutto rilievo, siamo in Arcivescovato con Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro, ci faremo Sua Eccellenza una lunga chiacchierata, parleremo di tutto, parleremo dei problemi sociali di Taranto, dell'occupazione, del lavoro, dell'ambiente, tante tematiche da affrontare con Piglio. Certamente, l'intervista è l'opportunità di rivelare quello che ho nel cuore, quello che desidero di meglio per la città di Taranto, quello per cui prego e mi do da fare ed è proprio la ragione per cui il dialogo con i mezzi di comunicazione per me è di estrema importanza, perché ha la finalità costruttiva e di proporre uno sviluppo critico ma attento alla vita della città. Lei è una persona diretta che, come dire, le cose non le manda a dire ma le dice direttamente, va subito al nocciolo, al cuore dei problemi, in medias res. Non si deve nascondere la polvere sotto il tappeto e lei lo ha fatto anche per la questione ambientale, per la questione occupazionale, afferrando la croce di Taranto e portandola nelle sedi competenti, laddove si prendono quelle decisioni poi veramente fondamentali per il nostro territorio. Certamente, nascondere i problemi non serve a nessuno, ma dall'inizio, dai primi giorni in cui sono arrivato a Taranto, quasi cinque anni fa, ho detto qui c'è un terreno buono, favorevole, maltrattato, però c'è grandi possibilità di risorgere e se vogliamo andare avanti i problemi non li dobbiamo seppellire, ma li dobbiamo risolvere, mettere alla luce, battere ai punti di riferimento locali e anche a quelli nazionali finché una risposta positiva ci sia data. Beh, non vi diciamo altro, se no vi togliamo il bello, il gusto, tra virgolette, della trasmissione. Abbiamo parlato di tutto, un'ora intensa e ringraziamo davvero Sua Eccellenza per questa enorme disponibilità. Grazie, grazie.